E in questo lavoro dobbiamo connetterci reciprocamente, dobbiamo capire come connetterci tra persone che sono attirate in qualche maniera, sono avvicinate verso la connessione o non sono avvicinate alla connessione, però capiscono che c'è uno scopo spirituale e che vale la pena studiare questo e anche applicare questo, applicarci e realizzare perché è lo scopo della vita, è lo scopo della creazione, noi abbiamo ricevuto un desiderio per questo siamo capaci di realizzare questo ed essere un condotto per quelli che non hanno ricevuto questo desiderio loro vivono una vita normale, una vita nel grado dell'animato e questo non è essere condannati però dobbiamo connetterli anche loro a quest'anima generale perché dobbiamo realizzare questa azione? Perché solamente noi e non insieme con noi ognuno in accordo al proprio desiderio che nasce dentro di lui, che viene dalla rottura e quindi pertanto cerchiamo adesso di amplificare questo desiderio, questo anelito nella misura massima e vediamo che il mondo nei nostri tempi adesso veramente richiede questo, ne ha bisogno seriamente abbiamo parlato di questo per decine di anni e vediamo come da un giorno all'altro in una maniera molto rapida a questo si sta avvicinando a noi, che il mondo sta scoprendo che è incapace di esistere in accordo allo schema precedente e ha bisogno di scoprire quindi il metodo vero dell'esistenza, il metodo della connessione, il vero sistema perché in accordo agli altri metodi precedenti non ha nessuna opportunità di continuare ad esistere in maniera appropriata e pertanto abbiamo bisogno e anche siamo capaci di uscire verso il mondo e dirgli, raccontargli in generale sul perché esistiamo, dove esistiamo e come noi nei nostri tempi come possiamo semplicemente uscire da questa realtà, iniziare a vivere in una realtà nella realtà vera e non in una illusione, nella maniera in cui ci troviamo oggi noi siamo, come scrivono i cabalisti, in un mondo immaginario perché veramente stiamo immaginandoci, stiamo immaginandolo dentro il nostro desiderio egoista e quindi gradualmente possiamo iniziare a vedere la realtà superiore, la dimensione superiore. Non è che le persone normali nei correnti passano a questo luogo una volta morte, no? Questo si deve raggiungere, acquisire nei vasi corretti, se la persona li corregge allora lo rivela e se non li corregge non lo può rivelare, è semplice. Noi dobbiamo capire che veramente vale la pena di investire tutti i nostri sforzi nella rivelazione di questa realtà vera, perché non ci aiuterà, non ci aiuterà per niente, non saremo capaci di raggiungere questo in maniera gratuita, senza nessuna correzione o sforzo, mai. E la correzione è totalmente attraverso la transizione, ossia diventando un condotto, ossia noi correggiamo il mondo perché dopo che noi abbiamo ricevuto qualche tipo di conoscenza iniziale, di saggezza iniziale che abbiamo ricevuto in maniera necessaria, adesso dipende da noi di correggere il vaso e quindi attraverso di questa correzione stiamo crescendo come un piccolo bambino. Noi ci assicuriamo che il bambino inizia a svilupparsi dal primo istante, lui si sviluppa un po' di più, un po' di più in alto, del grado di inanimato, quello come il suo corpo che lui sviluppa questa comprensione, questa sensazione e tutto ha a che vedere con l'altro, con le altre persone intorno a lui. E pertanto dobbiamo capire che tutto il nostro avanzamento è attraverso la connessione, o in altre parole, attraverso la divulgazione. E quindi se noi abbiamo successo nel spiegare a tutto il mondo cos'è che hanno scritto questi cabalisti su questo argomento, e ogni cabalista dal tempo della Ri era preoccupato giustamente con questo tema. Questo è stato 600 anni fa e da questo momento in avanti, quindi se noi anche ci preoccupiamo di questo, noi avremo successo, perché quindi potremo svilupparci solamente se condividiamo questa conoscenza con tutta l'umanità. Nella misura che possiamo, non chiuderemo queste cose, non le manterremo dentro la decina, no, ma nel momento che abbiamo creato qualche tipo di connessione tra di noi, tutto il nostro sviluppo aggiuntivo è attraverso la nostra espansione, ossia iniziando a lavorare in cerchi più ampli, i cerchi esterni, e solamente in questa maniera, perché se non c'è qualcuno a cui dare, quindi dall'alto non riceveremo forze spirituali, sensazioni spirituali, no. E quindi abbiamo bisogno semplicemente di capire che il condotto, essere un condotto è la cosa più importante, perché come scrive Bala Sulam, questo gruppo, il gruppo di Abramo, che lui ha riunito persone di tutte le nazioni che venivano da Babel, da Babilonia, stavano tutti vivendo lì in questo momento, in questi tempi, quindi lui li ha riuniti, li ha connessi, e quindi da loro, da lì in avanti, ossia dopo che hanno ricevuto il metodo, inizia a espandersi verso tutto il mondo, e quindi adesso siamo giustamente in questo punto, dove tutto il mondo inizia a capire, inizia a capire, non lo capisce ancora veramente, però inizia a capire che adesso è in uno stato dove mai si potrà sviluppare in una forma buona, in una direzione buona, semplicemente comincerà a fare giri e giri, avvitarsi completamente, confondersi, e pertanto ha bisogno di un metodo di correzione, e loro gradualmente inizieranno ad ascoltare, però tutto dipende da noi, il mondo mai potrà trovare questo cammino, tutto dipende da noi, perché noi siamo in questa qualità di azione, ed è proibito sperare che il mondo soffra un po' di più, e quindi potrà capire un po' di più, noi non lo facciamo con i nostri bambini, con i nostri figli che abbiamo, no? E quindi cerchiamo, nella misura massima, in precedenza di dare il nostro messaggio, la nostra educazione, il nostro insegnamento, cerchiamo di insegnare questo, nonostante loro non ci ascoltano, e pertanto se la persona capisce che la sua correzione è attraverso la connessione con tutti, e dopo, da lì, arriva all'anima di Adam e Richon, a parte lo studio che è obbligatorio, che riceve nella lezione del mattino, il resto del tempo deve pensare come connette tutta l'umanità, come l'achap, al nostro guf, che si chiama Gal Galta Veinheim, e quindi arriviamo ad uno stato dove solamente attraverso la connessione con l'achap potremo quindi portare contentezza al creatore, delizia, perché veramente noi siamo semplicemente solo un condotto, siamo queste persone che operano, che agiscono a causa del desiderio, della necessità che lui ha introdotto in noi, l'ha inserito, ci sediamo qui, abbiamo un desiderio di come connettereci, come sentire, come capire, come arrivare al creatore, capire lui, lui ci ha dato il desiderio, il desiderio di cercarlo a lui, e quindi noi stiamo semplicemente implementando, realizzando questo desiderio che ci è venuto a noi, noi ci connettiamo attraverso la connessione, stiamo ingrandendo il desiderio, però questo desiderio ha iniziato già dentro di noi, è venuto da lui, si chiama la scintilla, o il punto nel cuore, e quindi il resto delle persone nel mondo, il resto delle persone, lui non ha introdotto lì questa scintilla, loro non sentono la necessità di elevarsi sopra il grado di questo mondo, loro vogliono semplicemente solo questo, una vita semplice, comune, normale, mangiare, sesso, famiglia, rispetto, denaro, conoscenza, questo è quello che loro cercano, nient'altro, e dobbiamo rispettare questo desiderio che il creatore ha dato loro, e su questo piano loro si connettono per realizzare, per ricevere tutte queste cose, le cose che loro desiderano, e quindi, e quindi, con questo desiderio, loro anche riveleranno tutto, perché loro saranno connessi con noi, insieme con noi, e riceveranno da parte nostra, loro anche ci aiuteranno, e loro hanno grandi forze, noi non abbiamo tali forze, loro, quelli che desiderano il creatore, il creatore non gli ha dato forza a potere, ma solamente il desiderio di volere lui, un desiderio piccolo, di voler essere come un condotto, come un punto di contatto, di adesione con il creatore, ma il resto dello sviluppo, questo succede, perché questo punto è connesso ad una massa enorme, un desiderio enorme delle masse, ossia tutta l'umanità, e in loro, lì esiste questo desiderio enorme, non in noi, per noi è un desiderio qualitativo, però dopo di questo c'è quantità, una quantità, e grazie a questo, grazie a questo, saremo ricompensati per connettere questi grandi desideri, e dopo condividere con il pubblico le grandi luci, e noi non riceveremo grandi luci, ma avremo una connessione unica e speciale, perché le cose preziose sono molto rare, sono qualitative, perché la luce di Kayai e Chidà sono, ossia sono le luci più alte, e loro riceveranno i desideri inanimato vegetale animale, e le luci Nefesh, Ruach e Neshama, e queste li soddisferanno totalmente, e noi riceveremo quello che noi vogliamo, quello che soddisfa a noi, di rivelare il creatore, di rivelarlo e connetterci con lui, in maniera piena e completa, e pertanto possiamo svilupparci solamente, in primo luogo, connetterci tutti insieme, tra di noi, e però anche, per iniziare, iniziamo a connetterci, per anche, connetterci con gli altri, e quindi in loro potremo trovare i nostri vasi veri, sì, è chiaro, fino adesso sì, bene, andiamo alle domande, se c'è qualche domanda, e dopo continueremo.